Salve e bentrovati, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, sembra avviarsi a conclusione positiva la lunga drammatica vicenda che riguarda i dipendenti dell'ex provincia regionale di Siracusa e del Siracusa Resource, infatti via libera dall'Ars allo stanziamento di 15 milioni di euro. L'Assemblea regionale siciliana ha esitato l'emendamento alle variazioni alla finanziaria che destina 23 milioni e 900 mila euro a favore dei lavoratori dell'ex provincia regionale di Siracusa, Ragusa e Enna che da mesi non percepiscono lo stipendio. Ieri sera è arrivato in Ars il voto favorevole agli articoli 8 e 9 della manovra di assestamento di bilancio, in assemblea la provincia siracusana era rappresentata dai deputati Pippo Sorbello e Marica Cirone Di Marco, il presidente della commissione bilancio Enzo Vinciullo e l'assessore Bruno Marziano. Il primo destina risorse per assicurare frequenza e assistenza scolastica ai diversamenti abili, il secondo conferma la disponibilità di 23 milioni e 900 mila euro per i liberi consorsi comunali in crisi. Riconosciuta l'emergenza di Siracusa a cui vanno 15 milioni e mezzo di euro, il voto arriva al termine di una seduta non priva di tensioni, essere riusciti a far approvare senza modifiche il provvedimento che riguarda l'ex provincia regionale di Siracusa è un segnale importante di presenza e attenzione che preva un difficile lavoro di mediazione e di accordo cominciato in commissione e concluso in aula, così come ha detto l'onorevole Sorbello. Adesso, aggiunge la deputata Cirone Di Marco, manca solo il voto finale e si potrà poi procedere alla pubblicazione in gazzetta e alla liquidazione nei tempi che avevamo assicurato in questa corsa contro il tempo, prima della chiusura delle tesorerie. Mostra soddisfazione anche il presidente della commissione bilancio Enzo Vinciullo per il risultato raggiunto frutto di un mio emendamento, dice. Il relatore della legge sostiene anche che il suo pensiero va a tutti gli untori, ai seminatori di zizzani, agli ipocriti, ai bugiardi, ai miserabili che in questo mese e mezzo hanno cercato di buttare discredito su di me e sui lavoratori, minimizzando la drammaticità della situazione. Il capogruppo di Sicilia Democratica, Lars Giambattista Coltraro, sostiene comunque che non possono essere certi i lavoratori delle società partecipate delle province regionali siciliane né di altri enti territoriali debitori o insolventi a pagare lo scotto dei ritardi o degli errori di programmazione della politica. Sigilli all'edificio ortigiano che ospitava il liceo classico Gargallo. La procura di Siracusa infatti ha aperto un'indagine sullo stato di abbandono dell'immobile. Ortigia via Gargallo. Alle nostre spalle è lo storico edificio che ospitava il liceo omonimo, il liceo Gargallo, il liceo classico che è ospitato per migliaia e migliaia e migliaia di siracusani, giovani studenti che l'hanno frequentato nel corso dei decenni. La storia del liceo adesso è arrivata ad una momentanea conclusione, è veramente drammatica perché è stato sigillato, è stato chiuso, sono scattati i sigilli, è stato l'intervento dei carabinieri e la sezione tutela patrimonio culturale, il cosiddetto TPC di Siracusa, insieme ai carabinieri, hanno sequestrato il liceo, l'ex liceo Gargallo, un sequestro preventivo che adesso apre una serie di considerazioni. L'abbandono è poi anche quello che viene definito una sorta di scempio artistico del patrimonio culturale della città. Adesso ci cercherà di comprendere a cosa sia dovuto, quali responsabilità eventualmente ci siano, perché non si sia intervenuti in maniera diretta e chiara per evitare che l'edificio classico, una sorta di tempio della cultura siracusana, arrivasse a un tale punto di abbandono e di degrado e diventare definitivamente, almeno così al momento i rilevi dicono, impraticabile. L'attività di indagine ha consentito di verificare lo stato di grave deterioramento e abbandono dell'immobile nonostante tanti progetti di recupero e consolidamento strutturale, pianificati e avviati nel corso degli ultimi decenni. I sovraluoghi effettuati hanno permesso di rilevare consistenti danni alla struttura interessata anche da parziali crolli. Nell'aprile del 2016 vi è stato il crollo di una parte e la volta del primo piano il provvedimento di sequestra è motivato dalle condizioni dell'immobile, tali da rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità. Il palazzo, originariamente sede dell'oratorio di San Filippo Neri, risale alla seconda metà del XVII secolo. Nel 1777 furono eseguite opere architettoniche per l'ampliamento della struttura a cura dell'architetto siracusano Luciano Ali. Nel 1852, dopo che l'arcivescovo Manzo ottenne da Pio IX l'autorizzazione a commutare l'edificio in casa dei padri e la missione di San Vincenzo dei Paoli, vi istituirono un convitto per le classi ginnasiali e liceali. Dopo la denuncia presentata alla Polizia Giudiziaria e alla Procura da parte dell'architetto Patti, tre consiglieri comunali chiedono le dimissioni del Presidente del Consiglio, Armaro. È stata protocollata questa mattina la richiesta di dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale, Santino Armaro, da parte dei consiglieri Cettivinci, Salvo Sorbello e Simona Princiotta. La notizia del caso Firmopoli è emersa in seguito alla denuncia presentata dall'architetto Peppe Patti. Candidato della lista Rinnoviamo Siracusa adesso sulla presunta falsificazione delle firme dei sottoscrittori per la presentazione della lista stessa alle elezioni comunali del giugno 2013, fa insorgere ai tre consiglieri comunali un sospetto di irregolarità dell'elezione, sospetto che danneggia l'immagine dell'istituzione. Considerato che la stessa lista ha contribuito all'elezione del primo cittadino Giancarlo Garozze, che avendo superato lo sbarramento del 5% ha determinato l'elezione in Consiglio Comunale e anche dell'attuale Presidente dell'Assemblea, l'attività del Presidente Armaro prosegue non risulterebbe delegittimata qualora fosse accertato che la lista non avrebbe nemmeno dovuto concorrere alle elezioni amministrative del 2013. Sullo stesso Presidente Armaro il Consiglio Comunale si è recentemente pronunciato con una mozione di censura che ne ha già delegittimato l'operato, in termini di parzialità e rispetto dell'istituzione stessa che rappresenta. Vinci, Sorbello e Princiotta chiedono che il Presidente del Consiglio Comunale si dimetta fino alla conclusione delle attività di indagine. Parliamo di salute, adesso screening oncologico, parte un protocollo, torna un protocollo tra l'Asp, l'Isab, Lucoil e il Comune di Priolo. Riparte la campagna di prevenzione oncologica a Priolo, una sinergia tra Asp, Isab, Lucoil e il Comune Priolese. Hanno rinnovato questa mattina la convenzione nella sede della direzione dell'Asp di Corso Gelona. L'azienda sanitaria fornirà gli specialisti, il Comune locali per effettuare gli screening oncologici e l'Isab sosterrà l'aspetto economico della convenzione. Gli esami oncologici previsti e gratuiti saranno circa 7.000. iniziativa che stiamo portando avanti con l'Asp, con l'azienda sanitaria provinciale e con il Comune di Priolo, oramai da diversi anni. È un momento in cui, e io provo a dirlo sempre, in un momento in cui si ha la tendenza a tanto peggio, tanto meglio, ognuno per la sua strada e tutti contro tutti. Noi, insieme ad alcune istituzioni presenti sul territorio che guardano alle esigenze delle persone che vivono nel territorio, proviamo a fare sintesi e a lavorare insieme per riuscire a portare sul territorio un'iniziativa che sia in grado di dare un servizio. Colgo l'occasione per ringraziare l'Asp e la Lucoili che sul territorio di Priolo ha portato avanti oramai da 5 anni un'iniziativa così importante. Credo che sia una delle iniziative più importanti. Quando mi sono insediato queste stesse somme venivano dedicate per la festa del Santo Patrone. Ho pensato, e credo di aver fatto bene, assieme a Lucoili e assieme all'Asp di indirizzare queste stesse somme, 30.000 euro, per degli screening di prevenzione oncologica. E da oramai quasi sei anni che portiamo avanti 800 screening di prevenzione oncologica, ginecologici, ecografici e dermatologici, che permettono ai cittadini di Priolo di avere una prevenzione adeguata in un territorio comunque contiguo in una zona industriale. Tenevo a sottolineare questo aspetto che diventa veramente caratterizzante di questa iniziativa. Siamo al quinto anno, 7.000 esami già effettuati con la collaborazione e questo è il valore di un socio privato che è l'ISAB, che mette a disposizione risorse finanziarie proprio in funzione di garantire prestazioni sanitarie di prevenzione che fanno la differenza e si aggiungono a tutto quello che già l'Asp ha messo in cantiere per quanto riguarda la prevenzione oncologica in quei territori. Un valore aggiunto quindi, perché quando il privato entra in campo per sostenere in maniera forte la prevenzione dei territori, un comune, un'amministrazione comunale partecipe in maniera attiva a realizzare questo tipo di offerta sanitaria, questo fa la differenza nei territori. Adesso a spina nel fianco, Renzi ha inviato una lettera agli italiani all'estero invitandoli a votare il suo sì alle opposizioni in sordo. Matteo Renzi, con i soldi del popolo italiano, finanzia il suo sì al referendum istituzionale invitando gli italiani all'estero a votare secondo i suoi personali interessi. L'invito agli italiani è quello di ribellarsi. È l'ira delle opposizioni del comitato del no contro la lettera indirizzata agli italiani all'estero scritta da Matteo Renzi. Una missiva per invitare a votare sì al referendum. La riforma costituzionale è un altro tassello per rendere più forte l'Italia, così scrive Renzi nella lettera di due pagine, a cura del comitato Basta un sì, nella quale compaiono foto del premier con vari capi di stato e di governo e si spiega anche come votare, stile campagna elettorale. Oggi scrive Renzi nella veste del nuovo despota italiano, come scrivono le tante associazioni degli italiani all'estero siamo ad un bibio, possiamo tornare ad essere quelli di cui all'estero si sghignazza, quelli che non cambiano mai, quelli famosi per l'attaccamento alle poltrone e le azzuffate in Parlamento. Oppure possiamo dimostrare con i fatti che finalmente qualcosa cambia e che stiamo diventando un paese credibile e prestigioso. La lettera è stata subito presa di mira da sinistra italiana che ha presentato un'interrogazione sul voto degli italiani all'estero, tra le lettere inviate da Renzi a proposito, chi paga e quanto costano e i documenti che circolano alla farnesina sui procedimenti elettorali, più di una perplessità e sui rischi relativi al libero esercizio del voto e sul fatto che alcuni report siano stati celati. In questo momento è necessaria chiarezza per evitare che si addensino dubbi e ombra, afferma il capogruppo di sinistra italiana Montecitorio Arturo Scotto. La lettera spot per il sì che Renzi ha invitato ai 4 milioni di elettori italiani all'estero è l'ennesima grave anomalia di una campagna referendaria nel corso della quale il Premier sta usando metodi e mezzi discutibili. Ora chi vota all'estero fa arrivare in contemporanea e non assieme, come ha precisato, con equilibrismo linguistico. La ministra Boschi, il plico per il voto e l'indicazione per il sì. Una stranezza che rischia di inquinare fortemente la libera espressione democratica. Ci auguriamo che il presidente Mattarella intervenga, critica anche Paolo Romani, presidente del gruppo di Forza Italia al Senato. Gli fa eco Brunetta che parla di reato. La notizia lanciata ieri dalla ministra Boschi di milioni di lettere partite da parte del presidente del Consiglio Matteo Renzi agli italiani residenti all'estero in merito al voto sul referendum costituzionale e di una gravità inaudite senza precedenti. Roba da procura della Repubblica e da reato ministeriale, le afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera. Il voto contrario ora diventa per i cittadini liberi quello della protesta contro i diritti della democrazia parlamentare. La cronaca ai poliziotti e le volanti si sono recati in via Luigi Bignami per l'incendio doloso di un'automobile, una Golf sul posto vigile del fuoco. Sono in corso le indagini. Intanto a Pachino un uomo è stato arrestato per l'estorsione ai danni del titolare di una pizzeria ma anche la tentata estorsione in un panificio. Aveva tentato di estorcere denaro a titolare di un panificio mentre ha consumato l'estorsione a titolare di una pizzeria. Le indagini dei poliziotti del commissariato di Pachino con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di Pasquale Falco di 27 anni residente a Pachino in atto già agli arresti domiciliari per altra causa per i reati di tentata estorsione ai danni del titolare di un panificio e di estorsione in concorso ai danni del titolare di una pizzeria e entrambi aggravati. In specie alla fine del mese di ottobre 2016 mediante violenza e minaccia il Falco compiva atti idonei a tentare di costringere il titolare di un panificio a consegnargli una somma di denaro pari a 500 euro. Evento non consumatosi per il fermo rifiuto della vittima e l'intervento della polizia. La violenza e la minaccia consisteva con il percuotere il garzone del panificio al quale aveva chiesto la consegna a domicilio del pane, sottraendogli il furgone della ditta e intimando di riferire al datore di lavoro che se non gli avesse dato la somma richiesta non avrebbe restituito il mezzo. Il cellere intervento della volante consentiva il recupero del veicolo parcheggiato nei pressi dell'abitazione del Falco. Inoltre, in altra circostanza, dal mese di settembre 2016 ai primi del mese di novembre 2016, l'arrestato costringeva il titolare di una pizzeria a recapitargli delle pizza a domicilio senza corrispondere il prezzo e a dargli, per avere la sua protezione, 100 euro la settimana. Andiamo in via Piave, adesso dove scatta la protesta dei residenti e dei commercianti e la borgata a motivo dell'arrabbiatura una programmata interruzione di energia elettrica. Via Piave protestano i residenti e i commercianti per un'interruzione programmata di energia elettrica che, a loro dire, rischierà di mettere in ginocchio per qualche ora il quartiere la richiesta è che in casi simili come in altre zone della città vengono attivati i gruppi elettrogeni. Per la terza settimana consecutiva ci troviamo ad avere un disservizio dell'Enel, praticamente è una mancanza che dura circa otto ore e in queste otto ore siamo isolati, non abbiamo energia elettrica, non possiamo lavorare, non possiamo esercitare la nostra professione. Siamo in via Piave, il fulcro della borgata, praticamente spiegazioni non ne abbiamo e non sappiamo neanche quanto durerà questo disservizio e per quante altre settimane. Ogni giovedì dalle otto del mattino fino alle ore sedici circa del pomeriggio ci troviamo isolati. Praticamente le famiglie, gli artigiani e i commercianti della via Piave o della borgata a Santa Lucia non hanno come esercitare la propria professione. Eh sì, quello che ha detto l'ho contato qua all'amico nostro ha ragione perché effettivamente non parliamo anche solo dei disagi dei commercianti, ma abbiamo anche dei disagi dei disabili che non possono salire negli appartamenti perché chi abita a quarto piano, chi abita a terzo piano e queste sono cose gravissime. Purtroppo la nostra amministrazione comunale non prende atto di queste cose perché non lo sono i motivi, ma quello che a me mi interessa sapere è che non possiamo essere solo sovratazzati nella zona Santa Lucia e non essere proprio addimenticati da nessuno, essere dimenticati di tutti perché non esiste questa cosa. I commercianti siamo costretti a chiudere tutti e purtroppo per la prograzia che c'è anche non si può nemmeno chiudere perché voi lo sapete, se chiudono le attività potete chiudere le attività, potete vendere tutte le proprietà che avete perché dovete andare a pagare le tasse. E ancora di salute parliamo per una conferenza che si è tenuta ieri al santuario, alimentazione, salute e longevità. Alimentazione, salute e longevità al centro della conferenza svoltasi al santuario della Madonna delle Lacrime, relatore e l'oncologo Giovanni Raddino. Noi oggi sappiamo, ci sono molti studi in corso, che come noi ci comportiamo tutti i nostri comportamenti sono influenti sulla struttura del nostro DNA e il cibo che mangiamo ha maggior ragione per cui un'attenzione estrema verso un'alimentazione sana e verso un'alimentazione meno raffinata possibile è oggi alla base soprattutto per la prevenzione ma anche della terapia, e questa è la novità anche della terapia, delle patologie oncologiche per esempio di cui io mi occupo. Parlando di prevenzione anch'io non pensavo che le attività intellettuali intense come può essere lo yoga possa influire, io non lo credevo, ma in realtà ci sono degli studi che ci dicono che anche le attività come lo yoga che portano a un benessere che parte dalla mente, quindi che parte dal nostro pensiero, ci può influenzare positivamente e da qui a poco, io penso che nel giro di qualche anno ci saranno sempre più studi scientifici che dimostreranno questo, quindi invito tutti a restare molto attenti su questo argomento. Durante il suo intervento l'igienista Emanuele Di Mauro ha letto un passaggio del codice europeo contro il cancro e le malattie degenerative, recentemente pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si è parlato di un'alimentazione di tipo ipocratico, ci siamo ritornati all'alimentazione del V secolo a.C., quando Ippocrate diceva ai suoi allievi il cibo sarà la tua medicina e la tua medicina sarà il tuo cibo, quindi si è parlato di cibo farmaco, cibo terapia e abbiamo dato inizio anche ad una coltivazione biodinamica. Abbiamo formato un gruppo che già la settimana scorsa con l'aiuto di Santo Italia e di altri collaboratori, abbiamo iniziato a coltivare dei terreni con il sistema biodinamico. A chiudere la serata una degustazione bio e l'esibizione del soprano Mirella Furnari che ha eseguito alcuni brani della prestigiosa letteratura operistica ottocentesca. A chiudere la serata una musica di questo libro, abbiamo iniziato a coltivare delle stesse, Grazie a tutti. Il primo di sport è una partita di pallannuoto il cui incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione Emergency. Questa è l'iniziativa dell'Ortigia di Pallannuoto illustrata dal presidente Vancheri. Se si dice pallannuoto in città si parla dell'Ortigia, si parla della capacità di diventare una delle prime squadre, la prima squadra in Italia per quanto riguarda questo sport, però Siracusa è anche accoglienza per quanto riguarda i migranti che arrivano in grande numero sulle nostre coste. C'è una prima accoglienza attuata da Emergency e c'è una sinergia tra questi due aspetti. Sì, mi fa piacere sottolineare che da due anni il Circolo Cranottieri-Ortigia ha come partner tra i tanti anche l'associazione Emergency. Emergency che si occupa, come è noto, a livello internazionale di assistenza medica, soprattutto in zone di guerra o di crisi comunque umanitaria. E a Siracusa, in particolare per la provincia di Siracusa, della prima accoglienza, della prima assistenza medica a chi arriva, a chi sbarca nei nostri porti, provenendo dalle zone disagiate, dall'Africa soprattutto, dall'Africa e dall'Asia. Per la prima volta qui a Siracusa, l'Ortigia ha pensato di fare due gesti particolarmente importanti che abbiamo fatto cadere in un arco temporale molto ristretto. Il primo è il progetto Open Water. Abbiamo organizzato un corso di nuoto proprio per minori non accompagnati che provengono proprio da queste zone di guerra o zone particolarmente disagiate. E quindi un corso di nuoto gratuito per insegnare a questi ragazzi che hanno attraversato il mare e che hanno visto possibilmente morire i loro compagni, i loro familiari, proprio in questo viaggio della speranza. Insegniamo loro ad avere confidenza con l'acqua. Sabato 3 dicembre ospiteremo l'incontro di A1 Ortigia contro Quinto e oltre a sperare di offrire uno spettacolo agonistico importante, offriremo attraverso il pagamento di un biglietto simbolico di 5 euro l'intero ricavato all'Associazione Emergency. E per lo sport sarà il signor Marco Guerneri da Empoli ad arbitrare la partita fra Siracusa e Catanzaro, valevole come sedicesima giornata del campionato di Lega Pro e la partita sabato a partire dalle 15. Per noi è tutto, il TG si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.